È il secondo appuntamento che abbiamo qua al Teatro Manzoni con Luca Serianni. Prima dicevo a Luca, ormai ci diamo del tu perché è diventata un'amicizia, grazie a tutti quanti gli incontri che abbiamo organizzato, pensavo che bisognerebbe fare l'associazione Amici di Luca Serianni perché ho visto con quale affetto e anche con quale dimistichezza la maggior parte di voi si avvicina al professore che è veramente una cosa rara, è molto bello, soprattutto in questo periodo così difficile dove impera il dolore, la violenza, queste tensioni continue, invece curare i rapporti in questo modo credo che sia un patrimonio che bisogna assolutamente conservare. Comunque non perdo tempo, è molto interessante l'incontro di questa sera, in qualche modo anche divertente. Io come sempre ho la fortuna di dover impaginare tutti quanti i testi, a volte con un po' di scorno anche di mia moglie e della famiglia perché chiaramente devo dedicare qualche ora, però per me è un'attività invece molto interessante, infatti lo faccio molto volentieri. Passo ora la parola a Luca, grazie. Vi ricordo solo che il prossimo appuntamento sarà martedì 3 maggio. Un altro appuntamento abbiamo ancora in settimana, il 7, la presentazione di un libro Democrazie sotto stress del professor Fabbrini che è un bravissimo editorialista del Sole 24 Ore e partecipa all'incontro Marta Dassù che è la direttrice di Aspenia, la rivista dell'Aspen Institute e interviene anche il segretario del PD Enrico Letta. Se volete partecipare giovedì alle 6 del pomeriggio noi siamo qua. Grazie, buona serata. Buonasera e benvenuti. Il tema del mio, come si dice in questi casi, conversazione, ma è un eufemismo che non userei per non mettersi in cattedra, insomma del mio discorso. Di oggi unisce due componenti molto diverse in realtà, la poesia giocosa che nasce con dichiarato intento parodico e la poesia che ho chiamato sperimentale legata all'esperienza barocca. sono due componenti diverse, come vedremo, ma anche la poesia barocca ha una evidente componente di gioco linguistico che tuttavia non implica che non ci possa essere una precisa serietà. Ma partiamo dal primo poeta, Francesco Berni, che oggi è decisamente un nome molto secondario, ma che ha avuto in realtà, proprio come poeta burlesco, una fortuna e anche una serie di imitatori per diversi secoli. Di lui basterà dire che Toscano fu al servizio di vari prelati, siamo nel primo Cinquecento, muore nel 1535, ed ebbero particolare fortuna di lui i capitoli berneschi, in terzine, nella gloriosa terzina dantesca, che finì con l'essere strumento di una poesia molto disimpegnata e giocata proprio su argomenti volutamente futili, capitolo delle anguille, per esempio, o addirittura capitolo degli orinali. Dante, naturalmente, la terzina viene usata proprio perché è espressione, tra l'altro, di una poesia realistica. Ma invece il sonetto che leggerò appartiene ad un filone diverso, quello della parodia del linguaggio petrarchesco. Ed è una parodia, dobbiamo riconoscerlo, indubbiamente raffinata. Il modello è un sonetto di Pietro Bembo, quindi tipico esponente del petrarchismo cinquecentesco. L'idea del Bembo era quella di non allontanarsi minimamente né dai temi né dalle parole usate da Petrarca, limitandosi semplicemente a disporre le tessere del mosaico in un ordine leggermente diverso. Questa disposizione di tessere diverse rispetto all'originale la fa anche Berni, ma con uno spostamento che permette un totale rovesciamento di prospettiva. Ma comincio senz'altro a leggerlo. Chiome d'argento, fino, irte e attorte e senz'arte intorno a un bel viso d'oro. Fronte crespa, umirando io misco loro, dove spunta i suoi strali, amore e morte. Fermiamoci a questa quartina osservando che l'argento è naturalmente un metallo pregiato, anche se non è l'oro, ma dire chiome d'argento implica che la destinataria in questo caso è una donna anziana con i capelli bianchi. Argento, fino, irte e attorte e senz'arte. Queste parole appartengono alla componente meno interessante del sonetto perché rappresentano di per sé un evidente rovesciamento. Chiome che non sono ordinate e non costituiscono una raffinata acconciatura ma lasciate irte e affidate al puro caso. Invece è più interessante l'espressione bel viso d'oro perché oro è effettivamente una componente frequente nel sonetto amoroso ed è una componente tipica della cosiddetta descripzio mulieris, della descrizione della donna ideale, ma ovviamente riferita ai capelli. Per molto tempo i capelli della donna celebrata sono biondi e gli occhi sono neri. I primi esempi di celebrazione lirica di donne con gli occhi azzurri sono di fine Cinquecento. C'è un sonetto, anzi un madrigale del Tasso in cui Tasso celebra una nobile dama conosciuta alla corte francese soffermandosi su questo particolare nuovo rispetto alla tradizione degli occhi azzurri. Allora l'oro, detto dei capelli, rientrerebbe in pieno nella descrizione mulieris. Ma che cosa vuol dire un viso d'oro? Beh, un viso giallastro. L'epiteto che funzionava come celebrativo in relazione ai capelli, spostato appena dai capelli al volto, ci fa vedere una persona dalla carnagione giallastra, quindi tutt'altro che attraente. fronte crespa, cioè arricciata, arricciata dalle rughe. Anche qui però Bernie ha preso con una certa abilità l'aggettivo crespo da modelli poetici seri quando il crindoro della donna amata, i capelli biondi, erano anche ricci e quindi crespi. Anche qui un piccolo spostamento dai capelli alla fronte che ci fa apparire una fronte rugosa. E poi abbiamo ancora un'altra possibilità che Bernie esperisce. Umirando in is coloro, mirando, contemplando tutti questi aspetti io impallidisco. È chiaramente anfibologico perché anche il poeta amoroso classico impallidiva di fronte alla straordinaria bellezza della donna amata. Ma qui si può anche pensare, anzi è necessario pensare, che impallidisca, visto che, come si ricava, questa donna così poco attraente è la moglie. Dove spunta i suoi strali amore e morte, occhi di perle vaghi, luci torte da ogni obietto diseguale a loro, ciglia di neve e quelle ondio maccorro dita e man dolcemente grosse e corte. Ecco dove amore e morte, che è una accoppiata tradizionale, c'è anche una canzone di Leopardi intitolata All'amore e la morte, dove la forza dell'amore, forza cieca che colpisce senza possibilità di difesa chiunque, cupido, desideri colpire e la morte, ovviamente, non riescono a penetrare perché possiamo commentare senza preoccupazioni del politicamente corretto che sarebbe fuori luogo perché è talmente brutta la protagonista che anche, non solo l'amore, ma anche la morte, non riescono ad aver ragione di lei. Occhi vaghi, belli, di perle. Ancora una volta un epiteto ambiguo perché le perle entrano nelle rime di Petrarca, ma è riferimento ai denti. I denti sono celebrati come componente della bellezza muliebre, ma non con il nome proprio. Petrarca, per esempio, usa dente solo in funzione figurata. In funzione propria i denti diventano immancabilmente le perle. Ma qui gli occhi perlacei sono occhi con una avanzata cataratta, sono occhi in cui non si riconosce più il colore dell'iride. Luci, cioè occhi, che si distorbono da ogni oggetto che non sia degno di loro, ma possiamo anche pensare occhi storti. Ciglia di neve, qui è lo stesso gioco di chiome d'argento, anche le ciglia sono bianche come neve e la neve naturalmente era un figurante che si ritrovava per indicare l'incarnato che doveva essere invariabilmente bianco. E quelle dita e mani grosse e corte. Qui basterebbe pensare alla iconografia cinquecentesca con queste madonne o anche la madonna Maria Vergine con queste dita appunto affusolate e chiaramente magre. Labbra di latte. Beh, le labbra devono essere rosse naturalmente. Questo anche oggi del resto le labbra pallide sarebbero segno di scarsa salute. Qui invece sono labbra latte, bocca ampia, ma naturalmente la bocca doveva essere piccola nell'immagine tradizionale della donna. Sarà gozzano in un contesto completamente diverso che celebrando senza nessun capovolgimento la signorina Felicita parla della bocca larga nel ridere e nel bere ma Gozzano ci dice semplicemente che i canoni ormai sono mutati e quindi può darci un'immagine affettosa anche se con una leggera sottolineatura scherzosa della signorina Felicita. Denti debano e quindi neri mentre dovevano essere bianchi e dovrebbero anche oggi essere bianchi rari e pellegrini cioè pochi e tentennanti non si salva come vedete nessun aspetto inaudita ineffabile armonia. E poi abbiamo la terzina finale dove il tono si fa serio ormai o comunque non c'è più questo gioco di rovesciamento e trae un po' la conclusione di questa rappresentazione che ci ha appena dato costumi alteri e gravi qui non c'è nessun rovesciamento antifrastico e a voi divini servi d'amor palese fo che queste sono le bellezze della donna mia appunto dicevo moglie o comunque donna della propria vita ecco l'abilità di Bernie come osservavo è che alterna tranne nella terzina finale tre procedure quella più banale è costituita da indicazioni puramente negative le chiome irte a torte senza arte poi c'è lo stravolgimento della predicazione abituale un piccolo spostamento l'oro non più riferito ai capelli ma al colorito e infine il massimo straniamento parodico quando si dice umirando io mi scoloro perché appunto l'impallidire può essere anche una forma di adorazione e non quindi di spavento come è in questo caso quindi indubbiamente una parodia ben costruita ma facciamo ora un passo avanti direi in tutti i sensi perché Francesco Redi il poeta di cui leggerò alcuni versi è una personalità molto più spiccata e diciamo pure più interessante di Bernie Redi era a retino e nasce tanto per collocarlo nel tempo nel 1626 e fece una carriera importante come scienziato fu infatti archiatra cioè primo medico del granduca di Toscana Ferdinando II e fu uno scienziato a tutti gli effetti per esempio fece anche una scoperta importante smettendo la teoria della generazione spontanea degli insetti che si riteneva si formassero dalla putrifazione della carne e non invece da altri esseri viventi come vedete è una scoperta importante aveva il re di molti interessi come era del resto normale in un'epoca in cui la divisione tra le due culture non esisteva ed ebbe anche una parte di rilievo nella Accademia della Crusca ma qui c'è una particolare abbastanza sconcertante Regi partecipò attivamente alla raccolta degli esempi che sarebbero poi confluiti nella terza edizione del glorioso vocabolario uscita nel 1691 gli esempi del vocabolario della Crusca dovevano essere sempre agganciati ad un esempio d'autore precisamente ad un esempio preferibilmente di un autore trecentesco ora Redi si inventa una serie di esempi e lo studioso che nel primo novecento si accorse di queste falsificazioni restò un po' sconcertato perché non seppe e anche noi siamo un po' incerti su come interpretarle una componente giocosa quindi si divertì a ingannare gli altri accademici oppure l'intento apprezzabile di dotare la lingua italiana di parole che non esistevano magari nel trecento ma circolavano ampiamente alla sua epoca ecco questo è un elemento abbastanza interessante per esempio balsamico in riferimento ai condimenti pensiamo oggi all'aceto balsamico risulterebbe in un esempio di un predicatore che si chiamava Giordano da Pisa peccato però che questo esempio potrebbe essere inventato perché non abbiamo ritrovato la fonte effettiva da cui Redi lo aveva preso questa premessa è necessaria per collocare nella giusta luce un ditirambo il nome rimanda all'antica Grecia erano originariamente dei canti corali in onore di Dioniso Bacco in Toscana per l'appunto dunque il protagonista è il dio del vino Dioniso Bacco nella tradizione romana accompagnato ad Arianna Arianna è una figura che nella mitologia greca ha varie presenze viene in mente Arianna è Teseo Arianna è il Minotauro famoso filo da Arianna ma è associata spesso anche a Bacco è la ragazza di Bacco e è associata a Bacco anche in una celebre ballata di Lorenzo il Magnifico quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia e nel carro carnascialesco a cui Lorenzo dà vita Bacco è accompagnato appunto ad Arianna la trama di questo poemetto quasi di mille versi è molto presto detta dalla Toscana Bacco e Arianna si mettono in mare e Bacco si ubriaca e Redi riesce a rappresentare come vedremo con notevole efficacia gli effetti di alterazione cognitiva prodotti dall'eccesso alcolico infatti sui 980 versi complessivi ben 953 quasi tutti sono occupati da questo monologo di Bacco ma c'è anche da notare il forte sperimentalismo di Redi dal punto di vista metrico perché in questo poemetto Redi riesce ad usare tutti i versi compresi tra quaternario ed indecasillabo da cioè indubbiamente una prova di notevole bravura tecnica ma partiamo senz'altro a leggere questo brano quali strani capogiri d'improvviso mi fan guerra parmi proprio che la terra sotto i piedi mi si raggiri non ho bisogno qui di parafrasare la testa gira sono quelle che si chiamerebbero oggi vertigini oggettive abbiamo come la sensazione che tutto giri intorno a noi mi sembra proprio che la terra si alteri sotto i miei piedi naturalmente è uno degli effetti dell'ebbrezza alcolica ma se la terra comincia a tremare e traballando minaccia disastri lascio la terra mi salvo nel mare vara vara quella gondola più capace e ben fornita che la nostra favorita si rivolge idealmente ad un marinaio dicendogli di mettere in mare una scialuppa diremmo noi più che una gondola come tipica imbarcazione veneziana su questa nave che temprea di cristallo cioè che è fragile come cristallo eppure non pave del mar crucioso il ballo eppure non ha paura non teme il continuo sommovimento del mare in tempesta io gir men voglio per mio gentil di porto conforme io soglio di brindisi nel porto abbiamo detto i capogiri e qui c'è un altro elemento dell'alterazione di bacco il fatto che dal brindisi nel senso di sostantivo è un germanismo che nasce dall'espressione tedesca il brindia cioè ti porto ti presento in tuo onore questo bicchiere pieno di vino diventa la città pugliese con appunto una omonimia che rappresenta un gioco puramente fonico di brindisi nel porto purché sia carica di brindisevol merce questa mia barca purché questa barca sia carica di merce brindisevole beh non c'è da dire che brindisevole è naturalmente una parola inventata da Redi che allude al brindisi fatto col vino non certo alla città su vogliamo navighiamo navighiamo infino a brindisi a Rihanna brindis brindisi due cose da notare la ripetizione della stessa parola ripetizione che imita appunto il mancato controllo della sequenza del discorso da parte dell'ubriaco e il fatto che alcune parole non vengono completate brindis brindisi o bell'andare per barca in mare verso la sera di primavera venticelli e fresche aurette dispiegando ali d'argento sull'azzurro pavimento cioè sul mare rappresentato con questa metafora questa sì di gusto barocco come un pavimento azzurro tesson danze amorosette e al mormorio dei tremoli cristalli cioè delle onde sfidano cristalli appunto per la trasparenza che la spuma delle onde o le stesse onde presentano sfidano ogni ora i naviganti ai balli su vogliamo navighiamo navighiamo infino a brindisi a rianna brindis brindisi passa voga arranca arranca che la ciurma non si stanca anzi lieta si rinfranca quando arranca in verso brindisi come vedete il discorso non procede resta fisso nell'immagine proprio per la incapacità di bacco di un ubriaco di articolare un discorso compiuto e se a te brindisi o fo perché a me faccia il buon pro a riannuccia vaguccia belluccia cantami un poco e ricantami tu sulla mandola la cucurucù la cucurucù la cucurucù sulla mandola la cucurucù allora anche qui non c'è da parafrasare ma semmai da commentare la vivacità che re dimostra nell'alterazione a riannuccia vaguccia belluccia e ancora una volta la ripetizione della stessa immagine la mandola è uno strumento accord si usa oggi il derivato il mandolino che è stato a lungo simbolo della italianità gli spaghetti e il mandolino vista dagli stranieri e quanto a questa cucurucù è una canzone così chiamata nella Toscana dell'epoca perché imitava il canto del gallo ma naturalmente a parte l'origine è chiaro che la parola viene qui usata per la sua consistenza fonica passavo cioè passavoga ma non riesce a completare la parola passavo passavoga arranca arranca che la ciurma non si stanca anzi lieta si rinfranca quando arranca quando arranca in verso brindisi arianna brindisi brindisi e se a te e se a te brindisi o fo perché a me perché a me perché a me faccia il buon pro il procedimento come vedete si dilata cioè si ripete una frase già detta ma non si riesce a ripeterla perché ogni volta ci si ferma di fronte a una parola ariannuccia leggiade ribelluccia è un composto e questo è un dato abbastanza interessante perché composti di questo tipo si introducono nella poesia italiana grazie a Chia Brera poeta vissuto tra 5 e 600 anche Chia Brera oggi è un nome dimenticato ma è un poeta che ebbe una certa importanza come rinnovamento della poesia italiana dell'epoca e dopo Chia Brera gli aggettivi composti ritornarono per imitazione del greco e quindi in poeti classicisti e comunque nei grandi traduttori dei poemi omerici pensiamo all'occhi cerulea per esempio dagli occhi azzurri e anche in un esperimento importante per lo sviluppo poi della poesia romantica fatto da Melchiorre Cesarotti in grande letterato del Settecento che tradusse i poemetti di Ossian o Ocean cioè di un mitico mitico poeta scozzese che in realtà era stato completamente manomesso dallo scozzese Macpherson e presentava un tipo di mitologia nordica che piacque molto poi ai nostri romantici e non solo ai romantici italiani ebbe un successo europeo quindi lo sottolineo questo come per diciamo marcare lo stato di servizio se posso dire così di questi composti che qui hanno una chiara origine giocosa cantami un po' cantami un po' cantami un poco e ricantami tu sulla viola la cucurucù la cucurucù sulla viola la cucurucù Redi ha una indubbia vena poetica e quindi capisce forse che questo gioco pur brillante alla fine rischia di risultare tedioso per il lettore e allora cambia nei versi successivi improvvisamente registro e usa cinquattro versi della stessa tipologia sono decasillabi sdruccioli terminano con una parola sdrucciola e con evidenti effetti fonici che tendono a imitare il sibilo di un mare in tempesta o qual nera con fremiti orribili scatenossi tempesta fierissima che dei tuoni fra gli orri di sibili sbuffa nembi di grandine asprissima facile osservare il gioco delle esse scatenossi fierissima sibili sbuffa asprissima che vuole suggerire appunto il sibilo del vento in tempesta su un occhiero ardito e fiero su un occhiero ad opera ogni arte per fuggire il re o periglio ma ha già vinto ogni consiglio veggio rotti e reme sarte le sartie e si infurian tuttavia venti e mare in traversia l'ubriachezza è arrivata al punto tale che Bacco immagina di vedere la nave completamente sfasciata dal progredire della tempesta il di tirambo Bacco in toscana è un chiaro esempio di poesia giocosa non c'è dubbio ma è anche una poesia che sperimenta nuove possibilità nel senso che ci sono banalmente molte parole che non appartengono al vocabolario italiano ma che inventa per l'occasione redi lo sperimentalismo è alla base dell'intera esperienza della poesia barocca il barocco poetico è tradizionalmente accantonato non solo dalla scuola e questo è normale perché a scuola si deve comunque fare una scelta non c'è spazio per fare tutto ma è in generale snobbato anche dai critici letterari e questo è naturalmente meno commendevole perché la mia sensazione io naturalmente appartengo ad una parrocchia leggermente diversa che è quella degli storici della lingua è che molti si lasciano influenzare dal giudizio aspramente negativo formulato nell'ottocento però da un grande critico come Francesco De Santis che si sbarazzò come giudizio critico della poesia barocca dicendo che è una poesia insincera artificiosa non sentita tutto questo può essere senz'altro vero ma parte questo giudizio del De Santis da una premessa che può essere discussa non è che il poeta deve per forza effondere la sua anima il suo dolore la sua sofferenza di stare al mondo può ben giocare con la lingua se non ammettiamo questa premessa se non dilatiamo il raggio della poesia sarebbe difficile giustificare un poeta come Ariosto della cui grandezza nessuno dubita ma che nell'Orlando Furioso cioè nell'unica opera per la quale noi oggi ci ricordiamo ampiamente di lui certo gioca non tanto con la lingua ma con le situazioni fatta questa premessa che mi sembrava necessaria leggiamo il primo sonetto che ho scelto qui i nomi dei poeti sono legittimamente ignoti Anton Maria Narducci noi sappiamo solo che era Perugino ma non sappiamo nulla di lui perché naturalmente nessuno si è messo a studiarlo per questo atteggiamento di supponenza vorrei proprio dire così nei confronti dei poeti barocchi e il sonetto ci è arrivato grazie ad una raccolta miscellanea un'antologia che conteneva vari sonetti barocchi pubblicata nel 1623 questa è l'unica data che noi abbiamo di tutto questo percorso poetico Narducci era Perugino e i poeti barocchi appartengono a varie parti d'Italia Perugia era ed è una città abbastanza importante ma ci sono delle zone particolarmente ricche di poeti per esempio il Salento che non hanno dato a parte i poeti barocchi alcuni poeti barocchi non hanno dato un grande contributo alla letteratura italiana perché il barocco è un fenomeno che rappresenta un fenomeno di grande fortuna i poeti barocchi hanno molti ascoltatori molti lettori dunque il sonetto non ha un titolo e quindi come avviene sempre si usa citarlo col primo verso il sonetto si presenta in antologie moderne anche col titolo fittizio che però rende bene l'oggetto la bella pidocchiosa e appartiene ad una serie di sonetti che celebrano uso volutamente questo verbo delle donne con qualche imperfezione la vera pidocchi è un'imperfezione tutto sommato facilmente emendabile ma ci sono anche sonetti sulla bella zoppa per esempio di altri poeti o sulla bella tartagliante prima di definire questi sonetti caricaturali pensiamoci due volte o anche di più forse che non ci si può innamorare di una donna zoppa certamente ci si può innamorare di una donna o di un uomo zoppo e a maggior ragione insomma ci si può innamorare di chi non curi l'igiene personale soprattutto all'epoca quando i pidocchi erano molto diffusi è rimasta a lungo l'abitudine di rapare a zero i bambini maschi in particolare proprio per risolvere in modo drastico il problema dei pidocchi sembran fere d'avorio in bosco d'oro le fere erranti onde si ricca siete anzi gemme son pur che voi scotete dall'aureo del belcrin natio tesoro i pidocchi che sono qui delle fiere che sembrano da d'avorio il colore dei pidocchi è effettivamente un colore giallastro che può avvicinarsi all'avorio in un bosco d'oro cioè nella vostra capigliatura che conforme al tradizionale modello che abbiamo evocato poco fa è una capigliatura bionda una capigliatura con molti capelli paragonabile a bosco le fiere erranti i pidocchi di cui siete così ricca anzi sono piuttosto delle gemme non delle fiere da d'avorio che voi scuotete dal nativo tesoro di questa capigliatura che avete avuto in sorte di questa capigliatura bionda oppure intenti a nobile lavoro così cangiati gli amoretti avete perché tessano al cor la bella rete con lauree fila on dio beato moro oppure non sono fiere d'avorio ma sono gli amoretti piccoli amori piccoli succedanei di cupido che sono stati trasformati in pidocchi che voi avete cambiato perché tessano al cuore la bella rete al cuore dell'innamorato la bella rete grazie a quei bei capelli d'oro per i quali io mi struggo notate anche una certa capacità di riverberare la stessa immagine i capelli d'oro ben quattro volte il bosco d'oro del verso 1 l'aureo crine del verso 4 l'aure fila del verso 8 e poi nel verso 10 che non abbiamo ancora letto le onde aurate cioè i capelli ondulati i bei capelli ad onda per citare un verso del Pasquale ancora un'altra immagine o fra bei rami d'or volanti amori gemme nate d'un crin fra l'onde aurate fere pasciute di nettare i umori questa terzina si rivolge ai pidocchi ricorrendo alle varie immagini a cui i pidocchi sono stati accostati de sapete desio d'eterni onori esser preda talor non is degnate di quella preda onde son preda i cori la conclusione rientra nel meccanismo che con una parola spagnola si definisce della agudezza cioè la conclusione ad effetto attraverso una serie di immagini particolarmente elaborate infatti la parola preda nel primo e nel terzo esempio si riferisce alla donna verso 13 esser preda voi pidocchi non sdegnatevi se siete preda della donna che cerca di toglierseli dal capo e alla donna si riferisce anche l'ultimo esempio del verso 14 di cui sono preda i cuori la donna uccide i pidocchi cercando di toglierseli uno ad uno e naturalmente fa stragi come ancora oggi si dice dei cuori dell'innamorato ma nella seconda occorrenza di preda al verso 14 di quella preda e la parola si riferisce invece alla donna predata dai pidocchi che succhiano il suo sangue quindi si riesce a usare nello stesso contesto addirittura in due versi con due valori opposti preda in senso proprio e preda predatrice la stessa parola andiamo ora ad un altro sonetto che mi serve la mina di Claudio Achillini che a Claudio Achillini è un po' più noto bolognese era un giurista che ha avuto anche rapporti con la corte di Francia e che Manzoni nei promessi sposi ricorda ricordando il suo più famoso sonetto sudate o fuochi a preparare metalli esortazione a Luigi XIII di Francia in funzione antispagnola questo sonetto mi serve per sottolineare la varietà dei temi propri della poesia barocca infatti un trattatista dell'epoca anche lui un nome legittimamente sconosciuto Alessandro Donati autore di un'ars poetica in latino siamo nel 1635 sancisce il principio per cui omnia canenda sunt in poesi cioè tutto si può cantare in poesia altro che la poesia ridotta al tema amoroso ogni tema può essere adatto e qui il tema è la rappresentazione della mina naturalmente con un riferimento finale in sedia di agudezza all'amore entra per nera e sconosciuta bocca fin sotto al muro ostil duce tiranno e con industria e vigilato affanno va giusta un muto fuoco e poi ne sbocca la mina entra attraverso un percorso sconosciuto al nemico e poi fa scoppiare un fuoco distruttivo ma non si tosto una favilla tocca l'incendioso e prigioniero inganno che in un solo momento eterno al danno crepa il suol tuona il ciel vola la rocca e il momento in cui la miccia non esplode è sufficiente perché si crei un'esplosione tale per cui il suolo si crepa il cielo rimbomba di tuoni e la rocca cioè la struttura fortificata venga a terra a crolli portai del corno il più segreto loco semi di fuoco e ne cercai lo scampo per non esser d'un cieco cioè dell'amore rappresentato come cieco che colpisce senza guardare la sua preda e scherzo gioco quindi io ho portato il mio amore certo è chiaro che si tratta di un amore del tutto letterario questo è inutile dirlo si può capire che queste immagini lasciassero freddo il De Santis per carità per non essere preda dell'amore ho cercato di resistere insomma all'amore ma nel mio animo avevo singoli semi di fuoco la favilla d'un bacio accese il lampo in sulla mina e pubblicossi il fuoco bastò un bacio perché questi fuochi si facessero esplodere il mio amore e quindi si pubblicò divenne evidente a tutti il fuoco ed ecco amor trionfatore in campo la poesia successiva di un poeta che appartiene alla schiera dei poeti diciamo pure del tutto sconosciuti è il veronese Paolo Abriani e la raccolta da cui lo tratta è una raccolta di Benedetto Croce che appunto ha avuto meriti anche proprio come studioso in generale della poesia sicentesca questa volta la bella tartagliante è una donna balbuziente che esprime il suo amore ed è interessante anche questo cambio di prospettiva il poeta è un uomo Paolo Abriani però assume l'atteggiamento le parole di una donna e rappresenta questa balbuzie con una certa novità mio cor mio ben mia pupilla se io mi miro il tuo bel viso se sentomi il seno conquiso per l'ardor che da te te sfavilla ma tu non hai scintilla d'amor e stai da me diviso e avendo in te 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 il paradiso di gioia mi nieghi anche una stilla qui non ho bisogno di fare la parafrasi perché il testo è molto chiaro di gioia mi nieghi anche una stilla sogni mia potenza te si diede sai di me la monarchia perché mi nieghi è ugual mercede ecco la terzina finale nella terzina finale il poeta riprende la sua voce e ci dà la chiave di questo di questi versi precedenti così d'amor ardendo in fiamma ria qualche segno maggior della mia fede tartagliando chiedea la bella mia così la mia bella ardendo di una fiamma inestinguibile quindi in qualche modo spiacevole di amore la mia bella mi chiedeva qualche dimostrazione in più del mio amore il poeta successivo giovanna leone sempronio da urbino quindi finora come vedete abbiamo citato già poeti di varie parti d'italia perugia bologna verona abriani adesso urbino ed è in morte d'un grillo c'è una tradizione nella poesia barocca di poeti che scrivono in morte di un singolo animale paolo zazzaroni per esempio scrive in morte di un cane questo oggi ci meraviglierebbe meno perché dato lo spazio che i cani hanno assunto nell'orizzonte attuale forse non ci meraviglieremmo che il padrone se fosse capace di scrivere versi dedichi una poesia al suo amato animale più difficile pensare ad una poesia in morte d'un grillo qui giace un grillo o passeggero un grillo che della fiammeggiante bionda estate le notturne temprando ore infocate infuse agli occhi miei sonno tranquillo l'incipit nasce da uno spunto che allarga a largo spazio nelle epigrafi funerarie in cui ci si rivolge al passeggero invitandolo a fermarsi in meditazione presso la tomba qualche volta soprattutto nel medioevo era lo stesso morto che si rivolgeva al passante dicendogli più o meno quel che io sono tu sarai quindi un passante superstizioso poteva anche non gradire troppo qui giace un grillo che allietando le ore caldissime di un'estate notturna attraverso il suo verso così ripetitivo ha favorito il mio sonno già con invidia il rosignuolo udillo lo ha già ascoltato con invidia l'usignolo beh a differenza del grillo il rosignuolo è ossia l'usignolo il rosignuolo è la variante provenzale cara alla tradizione poetica ha una lunga un lungo stato di servizio e cioè anche nel petrarca troviamo un rosignuolo un rosignuolo che si soave piagne quindi ha invidia l'usignolo ma se già ne ebbe invidia ornà pietate perché rimira la futura etate è morto il maestro e l'inventor del trillo perché anche l'usignuolo constata come l'inventore del trillo è morto al piccio il corpicciuolo nulla di forme in questo sassolin duro e scaglioso che già mi fe dormire sepolto or dorme reso ormai simile in tutto ad un sassolino duro e irto questo corpicciuolo del grillo che favoriva ai miei sogni sospendi il passo peregrin pietoso e dando al merto suo premio conforme e riconoscendo i meriti del grillo lascia posare chi già mi die riposo nell'ultimo verso c'è comunque una anche qui una ricerca espressiva perché si gioca su due parole che hanno la stessa radice lascia riposare chi mi ha dato riposo l'ultimo poeta che leggeremo è in qualche modo un poeta che chiude la stagione barocca Giacomo Lubrano muore infatti nel 1692 di Lubrano siamo più informati napoletano fu gesuita e predicatore e ricordiamo in particolare che i predicatori di gusto barocco probabilmente si lasciavano andare nelle loro prediche al punto che Papa Innocenzo XI nel 1680 emanò una bolla invitando i predicatori a annunciare la parola di Dio e a non spargere fiori di belle lettere gli argomenti del canzoniere di Lubrano sono i più vari conformemente al gusto barocco argomenti politici per esempio contro i turchi letterari in un sonetto celebre il sonno che è un tema tradizionale almeno da un celebre sonetto della casa in poi poi i ritrovati della tecnica l'occhialino cioè il cannocchiale e anche la moda la parrucca oppure anche qui ci sono sonetti dedicati ad animali che chiamerei antitradizionali il baco da seta di cui si parlerà nel sonetto che mi accingo a leggere la zanzara la lucciola la torpedine la tarantola quindi grande ricchezza il sonetto questa volta il titolo è d'autore ipocondriaco simile al verme mette in relazione due concetti molto diversi di ipocondriaco dunque chi è continuamente assillato dall'idea di avere chissà quali malattie e il verme con particolare riferimento al baco da seta che aveva un'importanza anche economica incomparabile evidentemente con quella che ha oggi anche perché la seta viene prodotta soprattutto attraverso procedimenti artificiali a te pari son io verme affannoso affannoso perché industria ambi filiamo in aria i propri umori mi pasco d'ombrevane e tu dimori tu sempre affaticato io mai non posso ecco una serie di relazioni tra realtà molto diverse entrambi filiamo in aria i nostri umori io mi nutro di ombrevane cioè di preoccupazioni che non hanno nessun fondamento e tu di gelsi moro è una variante a lungo concorrente con gelso che poi si è affermato tu sei sempre affaticato non ti stanchi mai del tuo lavoro e anch'io sono continuamente coinvolto nelle mie preoccupazioni tu langui al lampo al tuon d'austro nemboso io dell'oppresso cors vengo ai tremori tu con tuoi lacci il carcere tindori delle catene mie l'arbitrio esposo tu langui ti indebolisci muori di fronte ad una tempesta ad un austro vento meridionale che però i poeti usano con l'idea di parlare in generale di un vento di un vento carico di nubi io svengo invece perdo i sensi per i tremori della mia paura tu tindori il tuo carcere il bozzolo con i tuoi lacci con i lacci che con i fili che tu produci invece delle mie catene il protagonista è l'arbitrino perché appunto le preoccupazioni di salute non hanno fondamento sono le divise tue tra il biondo e il nero la tua divisa i tuoi colori sono il biondo e il nero il flavo della bile messo in prato di fuligini accese fumo vero qui in Lubrano si rifà la dottrina ipocratica dei quattro umori la cui diciamo organizzazione garantisce secondo gli antichi ma è una idea che è rimasta abbastanza lungo nella storia della medicina garantirebbe la salute quindi il flavo della bile giallo della bile che si diffonde in me è un vero fumo è un fumo che non mi fa più vedere nulla copre completamente la mia oscura la mia percezione in ciò svaria fra noi le leggi il fato in questo il destino cambia le leggi che governano me e te che io dalle morti mie vita non spero tu dalla tomba tua risorgi alato dunque in questo il fato è diverso perché io non spero di riuscire mai a superare le mie crisi pocondriache quindi di ritornare alla vita tu invece ti trasformerai in farfalla si trasforma in crisale del termine del periodo del periodo larvale come si dice esce come farfalla e depone le uova a riprova della consuetudine che nei secoli discorsi anche la lingua comune aveva col baco da seta e con le varie fasi del suo sviluppo ricorderò che non è del tutto spenta nella lingua comune un'espressione come dormire della grossa cioè dormire profondamente dormire della grossa è la terza e più lunga dormita del baco da seta traslata poi con un riferimento che noi oggi anche quando usassimo questa espressione non cogliamo più il riferimento agli esseri umani ecco il mio proposito era quello di dare un'idea della varietà della poesia barocca della loro della capacità anche di poeti che non hanno lasciato grande traccia di sé di giocare con la lingua anche se e chiudo proprio riprendendo questa notazione non è affatto detto che si tratti di una poesia solo parodica è una poesia che secondo me ha il suo interesse anche nel fatto che resta una poesia ambigua non sempre riusciamo a cogliere il vero intento giocoso oppure anche serio della poeta barocco e in questo direi c'è un elemento che dovrebbe mi auguro suscitare la nostra attenzione vi ringrazio grazie